Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati su USA Channel. Questo è l'anno, il 2024, delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Ancora una volta Biden contro Donald Trump. Una sfida fra due cariatidi alla quale sarebbe molto difficile appassionarsi se non fosse che si decida appunto quale dei due sarà il cosiddetto uomo più potente del mondo. Una situazione imbarazzante, a pensarci bene, mai forse ci saremmo immaginati di trovare gli Stati Uniti alle prese con una scelta di questa caratura, ma questi sono i fatti. E in America naturalmente la sfida è estremamente aspra, quasi una violenza tra le due fazioni chiaramente di origine social, chiaramente di origine internetiana, perché se il bipolarismo americano è oramai una tradizione storica con rarissime eccezioni, nella storia appunto delle elezioni americane, invece questa violenza nello scontro, questa assoluta incompatibilità fra le due metà grossomodo dell'elettorato, fra le due anime degli Stati Uniti, quella repubblicana e quella democratica, non dico che sia inedita, ma sicuramente negli ultimi anni ha raggiunto dei livelli quasi senza precedenti, dovuti a quella che è la funzione di internet. La funzione di internet è quella di abbattere i giudizi intermedi, di abbattere le zone grigie e di esaltare gli estremi, perché non c'è spazio, non c'è tempo, non c'è attenzione per un ragionamento che fai distinguo, per un ragionamento che entra nei dettagli e che quindi non è tutto bianco, tutto nero, mentre invece il tutto bianco e il tutto nero catturano subito, prendono subito sia da un punto di vista emozionale che quindi anche da un punto di vista dei click. Questo ha delle conseguenze devastanti sulla politica e lo stiamo vedendo in realtà in tutti i paesi democratici alle prese con un dibattito pubblico che di fatto si svolge su internet e sui social network. Negli Stati Uniti la situazione è, dal mio punto di vista, preoccupante, potrebbe addirittura essere disastrosa, proprio perché da un lato la figura di Trump è una figura, ricordiamoci che Trump nasce in realtà da un punto di vista social come grande twittatore, adesso Twitter si chiama X, ma insomma il senso è quello, è stata internet sicuramente alla base del consenso di Trump e anche alla base del dissenso nei suoi confronti, proprio perché il discorso pubblico non può che passare dalle piattaforme online. In questo caso, in questa situazione così senile, in questa sfida così senile, si va in realtà ad inserire una figura che senile non è, ma anzi è un miracolo della genetica, cioè la cantautrice americana Taylor Swift, ancora 34enne, la cui popolarità è ai massimi livelli, per Time, la rivista Time, sull'orlo di una crisi di vendite, la eletta persona dell'anno del 2023, anche per evidenti ragioni che se vogliono ancora riuscire a vendere qualche cosa di carta, è meglio che ci mettano sopra la faccia dell'unica che manda ancora le persone a comprare qualcosa. Taylor Swift quindi al top della popolarità, popstar, cantautrice, icona, molto amata, soprattutto amata in un modo speciale, in un modo che interessa moltissimo alla politica, in questa politica di fortissima contrapposizione e quindi sempre più incattivita e disperata per qualunque forma di consenso e in questa politica, sfida presidenziale americana, che non riesce ad offrire di meglio che la sfida fra le due cariatidi, riuscire a trascinare dei giovani, un elettorato mediamente abbastanza giovane, ad interessarsi a quella sfida e ad andare a votare, bisogna registrarsi, insomma in America non è così semplice come da noi, ha la massima importanza. Quindi la figura di Taylor Swift diventa centrale, diventa centrale proprio perché lei non è solo popolare, come dicevo, ma la sua è una popolarità speciale. Taylor Swift è la regina della parasocialità, potremmo dire la vera dominatrice dell'epoca della fidelizzazione e del tasso di conversione. Il tasso di conversione è tra le persone che ti seguono, quante poi eseguiranno l'acquisto del prodotto che tu vendi, quale sarà questa percentuale, più è alta più tu sei un o una grande, in questo caso fidelizzatrice. Quindi Taylor Swift non è soltanto famosa, vende un sacco di dischi, chi fa un sacco di ascolti su Spotify. Questo è comune a tantissime altre popstar, non è soltanto una bellona, perché di bellone ce ne sono tante. Lei è veramente la regina dell'epoca parasociale della fidelizzazione e dove il tasso di conversione è così importante e così bramato dalla politica, perché in ottica di democratici c'è bisogno di suscitare, non si sa bene come, entusiasmo per Joe Biden. In ottica di repubblicani c'è bisogno di acuire la, a sua volta, fidelizzazione nei confronti della figura di Donald Trump e di rintuzzare quelle che possono essere le strategie dell'avversario. In questo caso Taylor Swift che nasce cantante di musica country, poi si converte, quindi musica country tradizione da cuore bianco degli Stati Uniti, poi si evolve in pop star, quindi fa musica ascoltata da tutti e di grande successo, qualche anno fa, dopo essere stata storicamente una disimpegnata totale da un punto di vista politico, e questo piaceva al versante repubblicano, per cui se la sentivano un pochino dalla loro parte, anche se la sua caratteristica era proprio stata quella di non esprimersi su nulla che potesse essere divisivo proprio per vendere il più possibile a tutti, a un certo punto, epoca Trump, in realtà si trattava di un'elezione locale nel Tennessee, se non erro, ma in ogni caso era periodo trampiano, Taylor Swift si schiera con il candidato democratico che poi perderà quell'elezione, ma fa qualche cosa di estremamente forte rispetto a quella che era la sua immagine precedente, ma non così rivoluzionario come si pensa, in realtà fu una scelta estremamente conformista, perché nel mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento americano essere in dubbio, essere non palesemente antitrampiani, può essere molto costoso, quindi noi non dobbiamo mai pensare cos'è che lei pensi veramente, perché non lo sa nessuno, ma semplicemente guardare a quella che è la sua strategia. Questa ottica ci salva da qualunque pericolo di parasocialità nei suoi confronti, ovviamente, quindi questo lo possiamo applicare in tantissimi altri casi. La sua scelta era anche legata alla sua vicinanza alla comunità LGBTQ+, altra cosa che politicamente l'ha connotata. Quindi oggi si parla tanto negli Stati Uniti e quindi in tutto il mondo. Se ci sarà l'endorsement fatidico di Taylor Swift verso Joe Biden, non esiste nessun dubbio sul fatto che lei sia da quella parte lì, nessuno pensa che Taylor Swift possa supportare Donald Trump, quindi in questo senso ci si potrebbe domandare di che cosa si parla a fare, per quale motivo in America si stanno scannando Fox News negli ultimi giorni addosso in modo feroce alla figura della Swift, tutti i late show invece delle televisioni, versante progressista, democratico, tutte ad elogiarla, eccetera, eccetera. Veramente è il fulcro in questo momento della discussione. Per quale motivo? Quando tutti sanno che questa sta dalla parte di Joe Biden. Certamente è contro Trump. Per il motivo che un conto è sapere questa cosa sullo sfondo e un conto è invece una dichiarazione pubblica che potrebbe avere un effetto incredibile, soprattutto per quello che dicevamo prima. La sfida fra le due cariatidi non entusiasma, non entusiasma certamente un elettorato giovanile. Il tasso di conversione storicamente, di cui è fortissima questa cantante e cantautrice, è una forza potenzialmente rilevante anche in ambito politico, perché gli ascoltatori, i fan, i cosiddetti Swifties, i fan e le fan, soprattutto le fan di Taylor Swift, sono molto prone all'obbedienza nei confronti del loro idolo. Se Taylor Swift dicesse, ragazzi, è molto importante andare a votare, diciamo è molto importante andare a votare per Joe Biden alle prossime elezioni, questo potrebbe portare tantissime persone che altrimenti non l'avrebbero fatto perché non sono proprio il target di questa sfida così senile, potrebbe portare tantissime persone a votare. Storicamente però sappiamo che gli endorsement da parte delle superstar non hanno un track record, come si suol dire, uno storico molto positivo, raramente sono state considerate degli elementi decisivi per la vittoria o per la sconfitta di un'elezione presidenziale, ma bisogna dire due cose. Il caso di Taylor Swift è differente proprio perché la sua capacità di costruire attraverso gli strumenti di comunicazione odierni, diciamo così, di costruire una community così fedele è abbastanza unica nella storia delle superstar del mondo dello spettacolo. Non si tratta soltanto di popolarità, ma davvero si tratta di fidelizzazione e questo è un concetto estremamente social ed estremamente potente, raramente applicato su una scala così grande. Parliamo letteralmente di decine di milioni di persone soltanto negli Stati Uniti che potrebbero realmente ascoltare cosa questa persona dice, ok? E quindi questo è un impatto da non prendere sotto gamba, non è il solito attore famoso che dice votate per questo, che in fondo chi è davvero follower della community di Leonardo DiCaprio? Nessuno, pur essendo strafamoso, non è una celebrità, faccio l'esempio suo ma potete traslarlo a chi vi pare, non è una celebrità che abbia mai lavorato sulla community, sulla fidelizzazione, non l'ha mai interessato minimamente. Invece nel caso di Taylor Swift lei ha fatto un discorso molto da influencer. Potete immaginarvi Taylor Swift come la pop star influencer di internet che ha davvero costruito il suo successo su quell'hardcore, su quello zoccolo duro di follower fidelizzati ad alto tasso di conversione, che fanno sì che gli stadi siano sempre pieni, che fanno sì che gli ascolti su Spotify siano sempre tantissimi, proprio perché tutti i follower sono così innamorati di lei da volerla mettere sempre prima in classifica, eccetera, eccetera. È un discorso molto diverso e molto più potente rispetto a quello che si vede magari in misura simile, in modalità simile ma in misura molto minore con altri personaggi recenti, ok? Quindi questa è una differenza qualitativa reale rispetto al passato, ma versante repubblicano c'è una consapevolezza in più. La popolarità di Taylor Swift, l'invidia sociale che ovviamente suscita il miracolo genetico di questa bellona di grandissimo successo, eccetera, eccetera, che potrebbe in qualche modo schierarsi con il partito odiato da metà degli americani o comunque con l'insieme di idee che metà degli americani, dico per semplificare, non sopportano, può portare all'effetto opposto. E la strategia versante repubblicano non è tanto quello di impedire che Taylor Swift faccia o non faccia un endorsement, non hanno questo potere, ma è di far sì che questo endorsement sia talmente percepito in modo odioso dall'altra metà della popolazione, da suscitarne uno uguale e contrario. Quindi se Taylor Swift riuscirà a portare qualche decina di migliaia, centinaia di migliaia, non so, un milione o quello che è, di persone a votare che altrimenti non ci sarebbero andare, siamo nell'ipotetico, ora vediamo se le conviene, in ogni caso questo potrebbe portarne altrettanti indispettiti, indignati, infastiditi. Taylor Swift è fidanzata con un giocatore famoso di squadra di football che sta per giocare il Super Bowl, questo giocatore famoso, si chiama Travis Kelsey, ha fatto famosa pubblicità per i vaccini, famosa pubblicità in cui mostra la spallona da grosso giocatore di football con i due cerotti, uno per l'anti-influenzale e uno per l'anti-covid, quindi Novavax, immaginatevi, già anti-Trump, tutto versante democratico, eccetera, eccetera. Quindi lei è molto connotata in questo senso. Arriva il Super Bowl, lei viene sempre inquadrata sugli spalti, il Super Bowl e il football americano sono di storico interesse e target, anche se ora le cose sono molto più sfumate, non è più così semplice, però comunque è lo sport dell'elettorato trampiano, è lo sport che l'elettorato trampiano ama di più, molto più del basket, evidentemente che è sempre stato, anche come viene gestita la Lega, versante democratico, versante progressista, eccetera. Il football è molto più tradizionale, è molto più legato all'America, all'America degli stati centrali, se vogliamo dire così, nel senso di quell'elettorato tradizionalista statunitense. In ogni caso, la presenza quindi di Taylor Swift ancora non certa, al Super Bowl sarà inquadrata, non sarà inquadrata. A noi fa ridere questa cosa, perché chi se ne frega se questa sugli spalti viene inquadrata a 20 secondi. In realtà ha un significato simbolico gigantesco, perché lei è LGBTQ, vaccini, Biden sicuramente, eccetera, eccetera. Quindi la sua presenza in quello che è l'evento sportivo più seguito dell'anno, una sorta di processione religiosa, per così dire, dell'America bianca, che è il Super Bowl, per quanto i giocatori sono quasi tutti neri ovviamente, ma insomma la sua presenza ha un significato simbolico fortissimo, quindi non è così oziosa poi la polemica sul fatto se lei ci sia o non ci sia. Dal suo punto di vista lei si trova in una situazione di loss-loss, perché non ha più nessuna possibilità di uscire pulita, di uscire innocente, o non ha più nessuna possibilità di piacere a tutti, che era poi il suo obiettivo come superstar, quella di piacere a tutti. Possibilità a cui ha già rinunciato da un po' di tempo, quando fece il primo endorsement, ma ora davvero la sua immagine non può in nessun modo essere salvata dalla ferocia di questo scontro in vista delle elezioni presidenziali, proprio perché è talmente tirata per la giacchetta che dovesse non dire nulla, dovesse non schiare, dovesse non esprimere niente, neanche un'allusione per tutto questo anno che ci separa dalle elezioni presidenziali, ma sarebbe immediatamente arruolata dai trampiani che immediatamente la amerebbero, sarebbe una bocciatura verso Biden, avrebbe mille significati di il pubblico giovane, comunque ancora abbastanza giovane, non si entusiasma per questa sfida e quindi dà via libera a Trump, sarebbe anche una pavidità a vista, magari versante LGBTQ, eccetera, come poi non proprio oggi che è così importante, dopo che era stata il motivo per cui l'aveva fatto in passato non si può più non farlo e quindi le è richiesto di farlo e qualche cosa io presumo che farà in questo senso e se lo farà sarà un disastro, sarà crocifissa da tutto l'elettorato, da tutti i media trampiani e sui social non ne parliamo, quindi questa persona, questa pop star è così famosa, è così importante, è così influente e lo è diventata solo e soltanto per motivi commerciali, perché tutto il lavoro che ha fatto sui fan, tutta la costruzione parasociale che ha curato con grande attenzione, quindi grande community, molto fedele, grande tasso di conversione e fidelizzazione, eccetera, eccetera, volente o nolente è troppo appetibile, troppo succulenta per la politica, la politica sogna che qualunque candidato possa fare un lavoro del genere e quindi riuscire a cooptarla, riuscire a metterla sotto la propria ala, ha un valore straordinario e lei che ha fatto tutto questo percorso per ragioni sue artistiche, ovviamente, ma evidentemente il rapporto con il pubblico e il lavoro di fidelizzazione a finalità commerciali, un discorso che era commerciale, politicamente di suo, di per sé, sono pratiche neutre di puro marketing, finisce per essere divorato, appropriato dalla dalla politica, questa è una una meccanica molto interessante perché quando non riesce ad essere il politico il personaggio, Obama era un personaggio, ma anche Trump lo è, Obama aveva i fan letteralmente e bucava il video per così dire, ma anche Trump, presso chi lo apprezza, è la stessa cosa, è idolatrato, ma quando penso al versante democratico, penso a un Biden tenuto su veramente con i fili, non so quanto ancora conscio di esserci, la necessità è quella di usare il lavoro personaggistico fatto da altri che è stato fatto in questo caso incredibilmente bene nel caso di Taylor Swift, e quindi questa è la situazione, quando si vedono tutte queste discorsi su riuscirà ad arrivare in tempo per il Super Bowl, verrà inquadrata, viene inquadrata troppo, viene inquadrata poco, sembrano questioni stupide, sembrano questioni di chi se ne mette, chi si infuoca molto per queste cose, è stupido perché cosa conta, sono sciocchezze, i problemi sono altri, invece no, ha un significato simbolico enorme, perché negli Stati Uniti è percepita come una cosa che può essere decisiva, anche da chi lo nega, perché chi lo nega si incazza, e si incazza proprio perché sa che quel lavoro di fidelizzazione è stato fatto veramente bene, gli Swifties, le Swifties per lo più sono davvero un esercito di fedelissimi, di fidelizzatissimi, che fanno anche un po' impressione se ci pensate, non diversamente da certo elettorato trampiano, a ben vedere, quindi è un potere importante e per la pop star in questione Taylor Swift non c'è ritorno, ha fatto troppo bene il suo lavoro per poter mai più ripulire la sua immagine da quello che la politica e le contrapposizioni di natura social ne fanno e ne stanno facendo, pensate anche alla recente polemica sui ritratti, sulle rielaborazioni creative della sua immagine attraverso l'intelligenza artificiale ovviamente in ottica o se, che hanno molto diviso, di cui magari parleremo in un'altra occasione. Vi ringrazio intanto per aver seguito questo video, ci vediamo al prossimo.